Un incendio in località Filecchio, nel comune di Barga. Interessato un appartamento in una palazzina. Evacuate tutte le quattro famiglie dello stabile. I vigili del fuoco sono intervenuti in località Filecchio, nel comune di Barga, per un incendio appartamento. Arrivati sul posto il personale hanno per prima cosa messo in sicurezza gli abitanti dell'edificio e poi spento l'incendio che si era sviluppato dal piano cottura alimentato a GPL di un appartamento posto al secondo piano. Sono state evacuate tutte le quattro famiglie dello stabile, per un totale di 14 persone.Le fiamme hanno ferito uno degli occupanti dell'appartamento che ha riportato ustioni ad un braccio ed è stato soccorso dal personale sanitario del 118 giunto assieme ai vigili del fuoco. Sul posto sono poi intervenuti anche il sindaco del comune di Barga e i carabinieri. Grazie a tutti.